Ciao, sono Patrizia Pietropaolo, sono una psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Benvenuto in questo esercizio di rilassamento, al quale potrai dedicarti ogni volta che ne sentirai il bisogno. Se invece stai avendo un attacco di panico o di ansia proprio in questo momento e non sei a casa, è sufficiente che tu riesca a trovare un posto tranquillo, anche la tua auto e che tu segua le mie indicazioni. Adesso focalizza la tua attenzione sulla mia voce e su ogni singola parola che dirò. Siediti comodo e lasciati andare. Respira lentamente e profondamente. Respira lentamente e profondamente. Lentamente e profondamente. E lasciati andare al suono della mia voce. Adesso chiudi gli occhi e lasciati guidare, perché dopo questo esercizio sarai calmo, calmo e rilassato. Respira lentamente e profondamente. Respira lentamente e profondamente. Lentamente e profondamente. Lentamente e profondamente. Lascia che il tuo respiro sia calmo e lento. Calmo e lento. Lasciati andare al suono della mia voce, mentre senti il tuo respiro. Respira profondamente e profondamente. Senti l'aria che entra ed esce dalle tue narici. Sì consapevole della tua respirazione. Inspira con il naso. Segui con consapevolezza il percorso dell'aria, che dalle tue narici passa nella tua gola e poi nei tuoi polmoni e senti il tuo addome che si gonfia. Adesso espira e segui con consapevolezza l'aria che esce dal tuo corpo, mentre il tuo addome si sgonfia. E dai tuoi polmoni l'aria passa nella tua gola e da lì esce dalle tue narici. Senti l'aria che entra ed esce dal tuo corpo. Ancora, inspira con il naso. Segui con consapevolezza il percorso dell'aria, che dalle tue narici passa nella tua gola e poi nei tuoi polmoni e senti il tuo addome che si gonfia. Adesso espira e segui con consapevolezza l'aria che esce dal tuo corpo, mentre il tuo addome si sgonfia e dai tuoi polmoni l'aria passa nella tua gola e da lì esce dalle tue narici. Senti l'aria che entra ed esce dal tuo corpo. Adesso, così come sei, abbandonato al tuo respiro, immagina una spiaggia. La sabbia è bianca, il mare è calmo e trasparente. Piccole onde lambiscono la riva e il sole è caldo e luminoso. Immagina di sederti vicino alla riva del mare e osserva ciò che vedi con gli occhi della tua mente. Il mare davanti a te, la sua trasparenza e la calma delle piccole onde che delicatamente si infrangono davanti al tuo sguardo e come queste onde vanno e vengono. Vanno e vengono. Così è lo stesso per il tuo respiro che è in sincronia con le onde del mare. Lascia ti cullare dall'onda del tuo respiro. Lascia ti cullare dall'onda del tuo respiro. Quest'onda che viene e va. Viene e va. Lascia ti cullare dall'onda del tuo respiro. Sei calmo e rilassato. Calmo e rilassato. E nulla può disturbarti in questo momento. Lascia ti cullare dall'onda del tuo respiro. Quest'onda che viene e va. Lascia andare i pensieri. Goditi questo momento solo tuo. Ora i tuoi pensieri diventano forme. Sono piccole palline e tu le lasci cadere sulla sabbia scaldata dal sole. Mentre il mare continua con le sue onde a lambire la riva. Così come il tuo respiro ristora il tuo corpo. Ora sei calmo e rilassato. Ora sei calmo e rilassato. Lascia ti cullare dall'onda di questo mare. Lascia ti cullare dall'onda del tuo respiro. Lascia ti cullare dall'onda del tuo respiro. Sii consapevole della tua calma e della tua rilassatezza. Ora sei consapevole di tutta l'energia che hai in questo momento. L'hai presa dal mare e dal sole. E ora questa energia è tua e voglio che tu la imprima nella tua mente e ne abbia sempre consapevolezza. Adesso torna qui con me e inspira con il naso. segui con consapevolezza il percorso dell'aria che dalle tue narici passa nella tua gula e poi nei tuoi polmoni e senti il tuo addome che si gonfia. Adesso espira e segui con consapevolezza l'aria che esce dal tuo corpo mentre il tuo addome si sgonfia e dai tuoi polmoni l'aria passa nella tua gula e da lì esce dalle tue narici. senti l'aria che entra ed esce dal tuo corpo. Ancora inspira con il naso segui con consapevolezza il percorso dell'aria che dalle tue narici passa nella tua gula e poi nei tuoi polmoni e senti il tuo addome che si gonfia. Adesso espira e segui con consapevolezza l'aria che esce dal tuo corpo mentre il tuo addome si sgonfia e dai tuoi polmoni l'aria passa nella tua gula e da lì esce dalle tue narici. Senti l'aria che entra ed esce dal tuo corpo e ripeti al tuo corpo io sono calmo e rilassato io sono calmo e rilassato calmo e rilassato ora lentamente e dolcemente apri gli occhi ti senti calmo e sei rilassato la pace interiore ora guida le tue emozioni conciditi solo un minuto di ristoro per godere appieno di questo equilibrio ritrovato prima di riprendere le tue attività ringrazia te stesso per esserti regalato questi minuti preziosi per il tuo benessere psicofisico e grazie per avermi ascoltato grazie a tutti 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 Grazie a tutti.